E passiamo ora all'attualità. È stata recentemente approvata la legge che abolisce il diveto di bigamia e che permette quindi alle donne di convolare in seconde nozze pur avendo vivente il primo marito. La norma, ritenuta un passo importante nei diritti civili e attesa da lungo tempo, è stata promossa e sostenuta dalla senatrice Claire Conway del partito repubblicano. Durante la conferenza stampa per celebrare l'avvenuta approvazione, la senatrice ha anche annunciato il proprio secondo matrimonio, possibile in virtù della nuova legge. Sposerà infatti il signor Edward che affiancherà il signor John Conway, storico consorte della senatrice. L'unione, così come la norma stessa, è stata benedetta anche dalla nuova chiesa riformata, per bocca della cardinale sua eminenza Stefania Monforte. Alla senatrice le nostre congratulazioni.